Cominciamo dall'ariete. Oggi tutte le vostre sensazioni potrebbero essere amplificate. Questo potrebbe comportare qualche cambiamento nella vostra vita sentimentale. Non esprimersi sarebbe un reprimersi inutilmente. Toro, la vostra impazienza potrebbe essere sempre più negativa in questa giornata, specialmente se riguarderà una persona che deve darvi una risposta. Non Oggi fareste bene a sfruttare tutta la vostra creatività e tutte le vostre risorse, anche quelle finanziarie, per fare qualcosa di veramente straordinario, che possa suscitare in voi e negli altri una nuova energia e vitalità. Cancro, tutte le persone che avete conosciuto ultimamente non vi soddisfano per il loro modo di fare e di porsi nei confronti degli altri? Lasciate perdere. Leone, la vostra indecisione in questa giornata potrebbe far andare fuori di matto alcune persone che pertanto si comporteranno in modo strano e per non ferirvi non vi riveleranno subito quali siano le cose di voi che non apprezzano. Vergine, l'essere troppo sospettosi in questa giornata potrebbe non portarvi dove esattamente vorreste e pertanto è possibile che ci siano delle piccole ripicche nei vostri confronti. Bilancia, dovete per forza di cose dedicarvi alla vostra professione e soprattutto dovete impegnarvi sul serio a fare in modo che un progetto vada in porto. Il tempo stringe e non potete permettervi molti altri errori o distrazioni. Scorpione, mettete alla prova il vostro istinto. Ci sono delle situazioni che andranno risolte alla svelta e vi troverete a dover decidere per tutti. Attenzione però, potrebbero bloccarvi le vostre paure. Sagittario, se in questa giornata non muoverete un dito o se non proverete a fare quel passo in più verso un'altra persona, perderete una grande occasione. Non abbiate paura di rischiare, poiché non rischiate proprio nulla questa volta, anzi, avete solo da guadagnarci. Capricorno, in questa giornata un vostro sogno potrebbe diventare realtà ma molto dipenderà dal modo nel quale darete atto a questo sogno. Acquario, se non avete ben capito quale sia il vostro ruolo all'interno di una relazione che è iniziata da poco, allora sarebbe bene fare qualche domanda all'altra persona o a fare uno sforzo interiore e capire cosa realmente si desidera in questo momento. Pesci, oggi non potrete non prendere in considerazione l'idea che qualcuno vi ha suggerito in passato e che in questo momento rappresenta di certo la migliore sentita in giro. Per cui, se non siete in grado di pensare di meglio, cercate di intraprendere questa strada senza troppe remore. Grazie.